io a contrattare per cercare di fare 20 che poi non ha avuto per il suo lavoro come lei ci dà di essere un'e' nulla e la retta sola, la retta scelta sia il suo lavoro quella è del meglio per il più tempo e lo, quando sono stato 20 minuti, mezz'ora e lo avevo fatto per me e lo vanno a finire queste parti con un po' di e lo metto a fare e qui non ti faccio tutti qua la seguita No, sono andato trovando già, l'avete trovato. Ah, ma vuoi avere una gara di sola, voglio? Male. Eh, se non c'hai male, sono buone se sono più saborie delle nostre. Esatto. Sono più piccine, più grosse. Male, ero una gara di sola e l'effetto. Quello che sui pezzi ti può smettere. E io? Meno non ci sa il problema. Infatti... Che segui lo venga a me. Io ho sentito arrivare il cuccio alle te e ho detto... Ma non mi rifugiava tricchiamo, se poi a cagare dentro è un solo momento... Pum! Pum! Brava, dite bene. A favore del mio, guarda, tricchiamo. Io pensavo io a questo mio lavoro con una. Io pensavo a lui di essere trovato... Chi li ha però? Eh... Io pensavo a lui di essere trovato una. Per tornare alle tre... Non mi era. Ho detto, io sa con chi li è ora a fare. Io non mi eravo giugno, io non mi ero. Mi ero filmandomi. Eh? Ehi?